ciao coltivatori benvenuti sul canale di orto da coltivare in questo video vorrei parlarvi di tre errori che è bene evitare a dicembre nei vostri orti dicembre un mese in cui si entra nell'inverno e quindi potrebbe sembrare che non ci siano cose da fare negli orti e quindi neanche errori da commettere ma in realtà l'orto non si ferma ancora e quindi un primo errore è proprio legato all'abbassamento di temperatura invernale e è quello di trascurare la protezione delle piante dal freddo le piante non hanno tutte la stessa tolleranza agli abbassamenti termici ma in generale quando inizia a gelare può capitare che molte di queste piante ancora presenti negli orti abbiano dei danni irreversibili cioè vi muoiano e quindi bisogna in qualche modo proteggerle e come si fa il modo più semplice pratico ed economico che ci sia se avete ovviamente una coltivazione all'aperto è quella di coprire le vostre aiuole coltivate con dei teli di tessuto non tessuto il tessuto non tessuto è un materiale traspirante quindi non ostacola affatto gli scambi gassosi tra la pianta e l'esterno e fa anche passare l'acqua però crea una protezione dalle basse temperature quindi steso sopra la aiuola quindi sopra le piante dei leggeri abbassamenti termici li può schermare quindi vi può proteggere le piante dai primi freddi se poi avete una coltivazione in serra non riscaldata mettere anche il telo di tessuto non tessuto sopra le aiuole è un'ulteriore protezione come si mette il telo di tessuto non tessuto si stende semplicemente sopra tutta la coltura che volete proteggere e poi all'estremità della coltivazione deve essere fissato bene per esempio con dei mattoni delle pietre grandi delle assi di legno l'importante è che sia fissato in modo da non alzarsi e non essere spostato via dal vento a volte ci sono delle giornate di vento molto forte per le quali non basta aver messo qualche sasso qualche mattone qualche pietra più ne mettete è meglio è una in più è sempre meglio che uno o una in meno a seconda di che cosa utilizzate c'è anche da dire però che non tutte le colture hanno come vi ho anticipato prima la stessa resistenza al freddo e quindi possiamo scegliere di proteggere alcune colture e per altre no oppure aspettare perché ad esempio niente paura per il cavolo nero e le verze che sono molto resistenti per i porri per le cipolle per il cavolino di bruxelles i radicchi rossi invece massima attenzione se avete nell'orto ancora delle lattughe o delle vietole per esempio degli spinaci questi vanno assolutamente protetti coltello di tessuto non tessuto un secondo errore è legato alla modalità e alla tempistica della raccolta dei cavolini di bruxelles intanto mi piacerebbe spendere due parole a favore di questo bellissimo ortaggio che nei nostri orti ancora così poco coltivato forse perché ci abbiamo ancora poca cultura culinaria dei cavolini di bruxelles che invece sono molto coltivati e consumati in olanda e negli altri paesi del nord europa e invece un ortaggio che si coltiva benissimo anche da noi in italia e che dovremmo pensare di introdurre meglio nei nostri orti perché rappresenta una risorsa nell'inverno il cavolo di bruxelles infatti tra le verdure che maggiormente resistono agli abbassamenti di temperatura perché può sopportare fino a meno 3 gradi ovviamente dipende anche dall'umidità però è un ortaggio che comunque gennaio dicembre lo raccogliamo e quindi come dire sono pochi gli ortaggi che arrivano al raccolto a dicembre gennaio quindi perché non provare a inserire nei vostri orti anche questo però ricordatevelo eventualmente nella vostra progettazione dell'orto dell'anno nuovo ricordatevi che vanno piantati durante l'estate ecco l'errore di cui vi vorrei parlare sui cavoli di bruxelles è che questi vanno raccolti quando la gemma che è la parte edule è perfettamente compatta potremmo un po considerarlo come una sorta di cavolo cappuccio miniatura perché la regola nella raccolta è la stessa cioè dobbiamo toccarli e al tatto cavoli di bruxelles devono risultare belli compatti quando sono ancora piccoli e sono ancora un po' vuoti lo sentiamo che sono ancora un po morbidi bisogna aspettare però c'è anche la situazione in cui non si chiudono mai del tutto e in questo caso il problema potrebbe essere stato un eccesso nella concimazione azotata cioè cavoli di bruxelles se hanno ricevuto troppa concimazione anche legata a compost letame stallatico perché ricordiamoci che questi concimi ammendanti naturali comunque sedati in eccesso anche loro determinano un eccesso di azoto nel terreno quindi quando ci troviamo in una condizione di terreno troppo concimato il cavolino di bruxelles purtroppo potrebbe non chiudersi bene quindi quando non arrivate mai al momento adatto della raccolta perché non si compattano mai non si chiudono mai uno dei problemi potrebbe essere proprio questo però una condizione normale aspettate a raccoglieri quando si verificano queste condizioni quindi passate tra le piante guardateli bene e raccogliete con un coltello quelli che sono effettivamente pronti contestualmente alla raccolta vi suggerisco sempre di togliere tutte le foglie gialle e di togliere anche quelle parti diciamo proprio sopra il cavolino stesso che si sono un po appassite seccate in modo tale che la pianta sia sempre bella pulita arieggiata tutte le foglie ingiallite malate e secche vi consiglio poi di raccoglierle e portarle nel compost di non lasciarle a decomporsi per terra un aspetto positivo poi del cavolino di bruxelles è che ci offre una raccolta a scalare nel tempo per quasi un mese quindi voi potete ogni volta che desiderate cucinare cavolini di bruxelles del vostro orto passare tutte le piante controllare quelli che sono pronti e vi fate la raccolta del momento e questo si protrae nel tempo un terzo errore non è legato all'orto in sé ma alle eventuali piante da frutto che si trovano sparse qua e là nell'orto o attorno all'orto e l'errore è quello di non fare il trattamento invernale con prodotti rameici a cosa serve il trattamento invernale serve per proteggere le piante da frutto dalle forme svernanti dei vari patogeni fungini sapete che le piante da frutto durante la stagione primaverile ed estiva vengono facilmente attaccate da funghi come la ticchiolatura la moniliosi per quanto riguarda le drupacee la bolla il corineo la maculatura bruna del pero c'è tante patologie che poi rimangono sotto forma di forme svernanti sul tronco il rame nella corteccia e quindi sono pronte a rinfettare la pianta nella prossima stagione se voi fate un trattamento rameico sicuramente preservate la pianta da dalla probabilità che queste malattie si riverifichino allora non tutti amano i prodotti a base di rame perché effettivamente è innegabile che il rame abbia il suo impatto ambientale perché comunque non si biodegrada e è abbastanza tossico per alcuni organismi però per proteggere le piante almeno dal rischio che queste patologie raggiungano dei livelli alti tra un trattamento menale è una buona cosa però cercate allora di attenervi scrupolosamente a tutte le indicazioni che sono riportate sulla confezione del prodotto che comprate non esagerate assolutamente con le dosi però dovete avere la cura di coprire bene la pianta col trattamento perché il rame è un prodotto di copertura quindi il trattamento perché risulti efficace deve assicurare che la pianta sia coperta in ogni centimetro quadrato in libera vendita senza possesso del patentino in genere trovate dei prodotti che sono catalogati come concimi a base di rame quindi potete distribuirli attenendovi proprio alle dosi indicate sull'etichetta e alla diluizione giusta se avete proprio poche piante magari giovane come questa qua per i trattamenti vi è sufficiente anche un piccolo strumento come questo che costa poco è molto pratico e lo potete utilizzare per tutto l'anno anche nell'orto se invece avete più piante da frutto anche alte adulte e magari avete addirittura un frutteto è bene che investiate qualcosa in uno strumento un pochino più capiente quindi le pompe a zaino ci sono di varie capacità o anche quelle a carriola anche quelle che sono proprio con il moto coltivatore l'importante è fare trattamenti rispettando scrupolosamente tutte le precauzioni e le varie diluizioni come dicevo prima poi dopo la potatura magari invece di utilizzare il rame potete invece utilizzare un prodotto a base di propoli che aiuta anche a cicatrizzare in modo del tutto naturale un prodotto del tutto ecologico e tecnicamente è un corroborante io spero che questi tre consigli vi facciano evitare degli errori nei vostri orti durante questo mese e vi do appuntamento ai prossimi video se avete dubbi o consigli potete chiedere e scrivere nei commenti qui sotto ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale per non perderlo